buonasera a tutti benvenuti in questo sabato serale ore 19 prontissimi per un'altra puntata appuntamento fuori dall'ordinario però insomma ci tenevo a chiudere un po il ciclo di grosseto un'altra puntata un altro personaggio femminile oggi davvero molto molto importante e come sempre tana libero tutte voi sapete è il programma che vi porta le interviste che sono state fatte durante il laboratorio radiofonico nelle varie scuole delle classi primarie della provincia di grosseto perché quello prevede il progetto un progetto creato proprio per la lotta contro gli stereotipi di genere questa serata facciamo un viaggio passiamo davvero al di là dell'italia e andiamo nel cuore dello yemen andiamo a scoprire un simbolo di coraggio davvero nella lotta contro gli stereotipi di genere come dicevo yemen tra le antiche mura di sana la storia di questa bambina si può dire anzi lo è risuona davvero come un grido di speranza e di coraggio parliamo di una bambina parliamo di una giovane donna con gli occhi pieni di sogni e con un cuore innocente parliamo di noi udali lei quando fu data in sposa un uomo molto più anziano di lei ecco diciamo che lì si compie un po la scelta del destino nel suo destino non era scritto nelle rigide leggi del matrimonio infantile bensì proprio nella forza del suo spirito ribelle nella sua determinazione a lottare proprio contro l'ingiustizia chiaramente stiamo parlando di una cultura diversa da quella italiana una cultura che ha delle regole sentiremo anche durante il racconto della storia da parte dei bimbi della classe primaria quinta c che anche le altre donne dicevano è così dobbiamo passarlo tutte ecco noi udali non si è piegata al destino che le era stato imposto e forse la più grande scelta e soprattutto il personaggio forse che ad oggi incarna molto più di altri proprio una lotta contro contro alcune regole che vanno a violare quelli che sono poi i diritti lei non ha accettato lei non ha accettato passivamente un matrimonio è un matrimonio che tra l'altro avrebbe soffocato i suoi sogni rubato proprio la sua infanzia parliamo di dieci anni forse questo che ha colpito anche maggiormente i bambini che sentirete nelle interviste perché era una bambina come loro io spesso ad alcuni di loro detto a dieci anni come te che cosa pensi se ti capitasse a te o che cosa pensi di una tua compagna che dovesse subire tutto questo ecco lei con il coraggio davvero di un leone ha deciso di sfidare quelle che sono proprio le convinzioni sociali ma anche le norme culturali che primano proprio le giovani donne del suo paese perché ricordiamo che purtroppo ancora oggi ci sono queste tipologie di regole ecco io ho apprezzato molto il lavoro che ha fatto la maestra con i bambini perché questa è una storia davvero di resistenza e di grande audacia passi incerti ma molto determinati noi ho avvarcato la soglia di un tribunale quindi implorando la giustizia pensiamo che cosa voleva dire e che cosa vuol dire ad oggi fare una scelta e delle azioni del genere e non solo ha chiesto il divorzio del suo abusivo marito ma anche aperto una breccia davvero nelle mura di silenzio e complicità che circondano questo fenomeno del matrimonio infantile quindi ecco perché secondo me ha davvero anche una maggior importanza diciamo che il suo coraggio non è stato non è non è passato inosservato ecco le luci passate nel termine dei riflettori si sono accese su di lei e l'hanno davvero trasformata in un simbolo di speranza e soprattutto di cambiamento la sua voce ha risuonato nelle stanze del potere ha spinto proprio le istituzioni a prendere dei provvedimenti per proteggere i diritti delle giovane donne e dei bambini ecco secondo me Noiud ha dimostrato al mondo intero che l'età non è un ostacolo alla lotta per la propria dignità e per la propria libertà lei sicuramente ha infranto gli stereotipi di genere con con la forza di una enorme determinazione ma anche con la purezza del suo spirito la sua storia se vi documentate ci ricorda che anche le più piccole voci davvero possono eccheggiare come tuoni ma quei tuoni da temporale veramente minacciosi e portano con sé un messaggio di speranza è davvero di vero cambiamento io ho visto davvero molto colpiti questi bimbi perché come dicevo prima sicuramente l'età che l'ha rapportata a loro gli ha forse maggiormente sconvolti quando hanno studiato la sua storia e sentirete anche delle risposte ce n'è una poi in particolare molto molto carina molto particolare che se non mi sbaglio dice abbiamo tutti noi abbiamo gli occhi ma siamo sempre diversi ma siamo uguali sentirete davvero delle risposte molto interessanti e che ci fanno capire come ripeto sempre in ogni puntata che questo è un futuro che potrebbe davvero portare un cambiamento migliore ma dobbiamo aiutare queste giovani generazioni future a vivere con dei valori sani ecco io vorrei augurare a tutti i bimbi della classe quinta c dell'istituto grossetto 5 del plesso pari dei pascucci che insomma hanno hanno realizzato queste domande queste interviste io davvero loro vorrei fare un augurio che il coraggio di Noyud continui ad ispirarli ogni giorno proprio che gli spinga a lottare contro ogni forma di oppressione e soprattutto di ingiustizia io credo che la sua storia rimarrà ovviamente per sempre incisa nei loro cuori ma anche in tutti i cuori di coloro che credono davvero nella forza della dignità umana e soprattutto dell'uguaglianza di genere perché è questo poi il principio generale che anima sì il progetto ma che deve animare ogni nostra vita quotidiana perché va bene tutto quanto va bene pararne in radio ma se poi si isola a questo momento ok ne abbiamo parato un sabato sera alle 7 sono le 7.10 abbiamo già concluso allora il tutto dobbiamo ricordarci che ogni giorno va portato avanti va insegnato ai bimbi l'uguaglianza e soprattutto la vera tenacia per difendere i propri diritti credo che questo sia l'augurio migliore che noi possiamo augurarci di fare costantemente nel ruolo degli adulti e i bimbi di rimando insomma che colgano sempre questo nostro supporto e questo nostro aiuto bene io adesso vi lascio come sempre alle interviste alcune ci sono due o tre vocine che nonostante il lavoro che abbiamo fatto non siamo riusciti ad alzarle troppo però si sentono e poi ovviamente noi ci troviamo la settimana prossima col consueto appuntamento del martedì sera sempre qui su radio nor borealis con me silvia mariani e con tana libero tutte 19 martedì prossimo io vi auguro una davvero una buona serata un buon sabato un buon weekend buongiorno a tutti eccoci qui iniziamo una nuova puntata e abbiamo già qui pronte due intervistate speciali due inviate alla quale iniziamo subito a fare qualche domanda perché hanno voglia di parlare le vedo che scalpitano io chiederei ad aurora con quale frase aurora vogliamo iniziare questa intervista sono noi udali ho dieci anni e voglio divorziare una risposta bella bella intensa adesso magari facciamo rispondere anche lei poi vi faccio qualche altra domanda abbiamo noa noa per quale motivo avete scelto proprio lei perché siamo rimasti svalorditi dal libro che lei ha scritto grazie all'aiuto di una giornalista francese incredoli per il coraggio che una bambina di dieci anni ha trovato per scappare e divorziare dal marito insomma questa mattina abbiamo un tema che è molto importante noa che cosa ti ha colpito di questo personaggio hai avuto il coraggio di divorziare a dieci anni ok tu quanti anni hai? 10 ci pensi? vuol dire che era una persona della tua età quindi ti sei un po' immaginata che cosa vuol dire essere sposati a dieci anni e quindi se lei ha voluto divorziare perché vuol dire che oggi parleremo di un tema importante così cioè io non me lo immaginare a me non me lo immaginare la risposta da bambina ok infatti mentre in te Aurora visto che hai aperto che cosa ti è piaciuto di questo personaggio? mi è piaciuto perché mi è piaciuto quando lei è andata al tribunale e che cosa ha fatto? ha detto al signore del tribunale che voleva divorziare quindi oggi insomma ci prepariamo io direi di fare un bell'applauso alle prime due emigrate e noi ci prepariamo per i prossimi due allora noi intanto continuiamo a parlare abbiamo oggi il racconto no? di questa classe in cui abbiamo questa bambina una sposa bambina ascolta prima i tuoi compagni ci hanno raccontato che a un certo punto Noiude decide di andare in tribunale per divorziare qual è la reazione del giudice? non riesce a credere come una bimba di dieci anni possa essere già sposata e tu invece Matteo che cosa pensi? quando hai scoperto la storia di Noiude che cosa hai pensato? ho pensato come faceva a vivere questa bambina comunque la famiglia era un po' cattiva a venderla agli uomini sconosciuti hai ragione assolutamente intanto passerai il microfono a Emma Emma anche a te una domanda secondo te forse il giudice magari visto che è rimasto stupito come ci ha raccontato Matteo forse era perché non conosceva la legge del paese? no la conosce benissimo però nello Yemen la legge del 1999 dice che è lecito che una ragazza di 15 anni possa contare il matrimonio se la ragazza non ha ancora 15 anni può sposarsi ma il marito deve proteggerla e amarla come una figlia fino al suo quindicesimo compleanno può considerarla come sua moglie e tu quando hai anche a te come ho chiesto anche a tutti i tuoi compagni quando hai scoperto la sua storia che cosa hai pensato? che la sua famiglia essendo così tanto povera non avendo nemmeno un soldo in tasca decide di fare questa cosa orribile perché nello Yemen tempo fa era successa questa guerra orribile che nacque così questa cosa della sposa bambina e Noiud non si sentiva ancora pronta per sposarsi al giorno del suo matrimonio dopo aver essersi sposata lei vendere il suo anello per comprarsi una bambola senti se noi pensiamo che ancora oggi ci sono queste spose bambine tu a sapere che dall'altra parte del mondo ci sono bambine come te che vengono vendute che cosa provi? se io fossi una di loro se io ero un comeno iud se vivevo nello Yemen nel sud dello Yemen molto povero io non ero affatto felice di questa cosa perché era ancora minorenne sentirmi di già adulta pronta per fare queste faccende di casa e mettere il bucato e cucinare a questa età non mi non mi non mi si addice soprattutto oltre alle faccende di casa c'è il fatto che quando si è sposati insomma non è proprio una bella vita da bimbe bene ti ringrazio facciamo anche un bel applauso a loro due noi siamo qui a continuare con le nostre interviste adesso due inviate pronte pronte che sono Laura ed Irene io inizierei con Laura che è già col microfono pronta per partire e ti chiederei Laura visto invece di andare in tribunale Noiud avrebbe potuto chiedere aiuto alla sua famiglia come fanno tutti i bambini in difficoltà è giusto? sì Noiud si è rivolta dapprima alla sua famiglia di origine ma le risposte sono state deludenti sua madre la esortava a obbedire al marito e ad essere paziente sua nonna le diceva la vita è così Noiud tutte le donne devono subire ciò noi abbiamo vissuto tutte la stessa cosa e invece tu che cosa diresti? io direi no la vita non è così non è giusto per noi bambine ti è piaciuto studiare questo personaggio? sì mi è piaciuto molto perché ho visto che Noiud è stata molto coraggiosa a divorziare tra l'altro aveva anche la vostra età quindi quello soprattutto è importante bene invece visto che abbiamo qui la tua compagna che è Irene Irene qual'era la reazione di Noiud nel sentire quelle parole? Noiud ha un carattere molto combattivo e quindi ha reagito urlando e dicendo alla nonna perché non mi avete avvertito? perché non mi avete detto niente? e tu che cosa hai pensato quando ti hanno detto questo? quindi quando hai scoperto come venivano trattate le spose bambine? che non era giusto perché comunque dare una figlia in vendita perché dovevano avere i soldi non è giusto perché comunque dai in vendita a una bambina che poi comunque è piccola e la fai sposare a solo dieci anni, a otto anni non è giusto allora visto che parliamo di un personaggio che è lontano rispetto a noi fisicamente però ci sono delle cose che avvengono ancora, no Irene? quindi tu che cosa pensi di tutto questo, di queste cose che avvengono ancora oggi? che non è giusto perché comunque è come se succede a noi noi comunque ci stiamo male perché non rivediamo più la nostra famiglia e ci viene comunque un dispiacere come per dire tipo perché la nostra famiglia mi ha venduta? è come se non vogliono stare con me ma in realtà non è questo è soltanto che avevano bisogno di soldi perché erano una famiglia povera bene, allora io direi di fare un bel applauso anche a loro continuiamo con le nostre interviste adesso ho due maschietti davanti a me ho Arvi e aspetta che guardo bene Gabriele e quindi inizierei con te Arvi ti faccio una domanda così mi spieghi meglio chi consiglia a Noiud di portare il suo caso in tribunale? è la seconda moglie di suo padre, Doul, che ha pietà della sua sofferenza e lei consiglia di scappare in tribunale dove racconterà la sua vicenda e Noiud non ci pensa due volte, va in giro per la città e arriva in tribunale e tu che cosa hai provato quando hai scoperto la sua storia? hai provato rabbia, hai provato delusione? che cosa hai sentito per questa bambina? delusione perché io non la so aspettata dai suoi genitori e secondo te la cosa più bella che ti ha insegnato la sua storia qual è? che dobbiamo avere sempre coraggio e forza per andare avanti ok, allora io magari passerei intanto il microfono e lo passerei a Gabriele perché Gabriele ho una domanda anche per te io sto imparando da voi la storia di Noiud e dimmi un po' Gabriele, che cosa succede a Noiud una volta che va in tribunale? nel tribunale di Sanaa incontra il giudice Abdo un giovane uomo da allineamenti gentili e a lui racconta con decisione senza versare una lacrima che vuole divorziare come ho chiesto anche ai tuoi compagni tu che cosa hai provato quando ti hanno raccontato la storia di Noiud? sono stato deluso e triste perché per Noiud che doveva avere questa sofferenza di sposarsi con una più grande che non conosceva che cosa pensi del fatto che purtroppo ancora oggi c'è questo problema delle spose bambine? per me non è giusto perché dovrebbero smetterla di fare così quindi dovremmo imparare tutti a vivere magari in un modo diverso e molto più rispettoso bene, grazie, un bello applauso anche per noi continuiamo le nostre interviste abbiamo qui Emma davanti a me si parla oggi di un personaggio importante che è Noiud Ali Emma, non avete mai sentito parlare di spose bambine? sì, in modo superficiale ma non avevamo mai riflettuto sulla tragedia che può abbattersi su una bambina costretta a vivere una vita che non le appartiene una bambina dovrebbe vivere amata e protetta dalla famiglia che dovrebbe provvedere alla sua istruzione e permettere così di costruire il suo futuro invece a Noiud è stato renegato tutto questo è stata obbligata a vivere una vita d'adulta piena di responsabilità e dolore ascolta, che cosa hai provato quando hai studiato e hai ascoltato e scoperto la sua storia? dispiaciuta c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare? il suo coraggio che ha ascoltato la seconda moglie di suo padre, Dole che le ha detto di scappare via lontano e andare al tribunale di Sahana e divorziare secondo te qual è il messaggio più bello che ci porta questa sposa bambina per aiutare gli altri? che le bambine non possano vivere tutta questa sofferenza e dolore da parte delle persone che non le accettano così tanto e non le vogliono devono essere protette soprattutto perché sono ancora bambine quindi è un po' un personaggio della vostra età mentre io qui davanti a me anche a cui passiamo il microfono qui Matteo Matteo ascolta che cosa vi ha colpito maggiormente di questa storia? molte cose prima fra tutto il coraggio di una bambina di soli 10 anni che nel giorno in cui riceve dal marito il permesso di recarsi dalla famiglia fugge e cerca un tribunale in cui va a denunciare le azioni del marito e divorziare l'ho chiesto anche ad Emma tu che cosa hai provato quando hai scoperto la storia di questa bambina? ero molto dispiaciuta per questa bambina perché veniva anche maltrattata e la picchiavano col bastone e anche con le mani e calci che cosa potremmo dare come messaggio a degli altri bambini proprio come te su questo tema? che l'educazione è la prima è a base di tutto se non si è educati nella vita non si va avanti ecco direi che è un ottimo insegnamento il messaggio che ci hai dato io direi di fare un bel applauso continuiamo insomma il racconto del vostro personaggio davanti a me adesso Martina Martina quindi secondo te quindi è tutto secondo la legge? no perché noi uddali dopo il matrimonio ha subito violenze immaginabili da parte del marito e i membri della famiglia lei stessa ha raccontato che dall'inizio la picchiava con le mani e poi con il bastone noi udali ha ragione a chiedere il divorzio e quando tu hai scoperto la sua storia che cosa ti è piaciuto di lei? il coraggio di una bambina di 10 anni ad andare in tribunale io non l'avrei mai avuto e quindi tu ecco ti fossi trovata tu in questa condizione non andavi in tribunale che cosa facevi? avresti subito per tanto tempo? no cioè avrei provato di migliorare un po' le cose però il coraggio di andare in tribunale a me te non l'avrei avuto allora possiamo quasi dire che in questo noi ud ti ha dato un esempio per forse in futuro trovare il coraggio laddove ne avessi bisogno quindi essere forte e coraggiosa come lei? sì sì bene allora io direi magari di passare intanto il microfono a Nour che quindi a te chiedo magari Nour qual è la reazione del giudice dopo che ha ascoltato tutti questi racconti il giudice trova intollerabile che una bambina debba subire simili violenze e decide di aiutarla l'alloggia presso una sua collega di nome Shada che si prende cura di lei insieme decidono di fare causa al padre e al marito per ottenere quello che Noiud desidera più di ogni altra cosa la libertà il 15 aprile 2008 Noiud ottiene il divorzio ma deve risarcire al marito mille rivar circa 360 euro per aver rotto il contratto la somma viene raccolta grazie a un'iniziativa dello Yemen Times E anche a te chiedo dopo che hai scoperto la storia che cosa hai pensato? Ho pensato che una bambina non debba subire simili violenze E se potessimo dare un pensiero verso le generazioni future perché tu sai che ancora oggi in alcuni stati esistono le spose bambine che cosa ti fa pensare a questo se pensi che dall'altra parte del mondo c'è ancora questa realtà Che il mondo debba cambiare e che bisogna smettere di fare queste cose brutte Direi che frase migliore non potevamo sentire Io direi di fare un bel applauso a loro due Continuiamo a parlare con i nostri inviati e inviate speciali perché ho un bambino e una bambina qua davanti a me Io direi di cominciare con Paolo che è prontissimo voi non lo sapete ma non vede l'ora di parlare in radio Paolo a te chiederei Perché è importante secondo te questa sentenza di divorzio? Questa sentenza è importantissima perché prima di tutto permette a Noiud di riprendere a studiare e diventare un'avvocatessa come Shada ma soprattutto ha dato la possibilità ad altre persone come lei di uscire da situazioni dolorosissime e di riprendere in mano la loro vita Perciò per noi Noiud è il simbolo della lotta che porta all'emancipazione femminile E ascolta che cosa ti è piaciuto studiare di lei? Mi ti viene in mente? Che cosa pensi? Sai che è una bambina che ha quasi la tua età no? Perché aveva se non mi sbaglio 10-15 anni e 10-15 anni? Io non sapevo niente di questa cosa e mi fa sentire deluso perché non puoi se una bambina di 10 anni non si può subito sposare con un uomo di 30 anni E infatti sono delle situazioni che lasciano pensare Io direi quindi adesso sentiamo un attimino Alessia che ha anche lei il microfono che le ha porto Paolo e ti chiederei Alessia questa è una situazione che vivono tutte le bambine nello Yemen? No solo nelle famiglie più povere perché nello Yemen era scoppiata una grossa guerra che ha tolto gran parte del cibo mettendo le famiglie alla fame allora loro sfruttano le bambine e le spose come match di scambio per ripianare i propri debiti e procurarsi del cibo e questa legge vive soprattutto per predominanza maschile E tu che cosa ne pensi di tutto questo sapendo che dall'altra parte del mondo accade questo? Beh io sicuramente provo anche rabbia perché dopo tutto ognuno da lì in certe parti del mondo ha cambiato delle cose e ci sono ancora e ancora lo fanno senza capire che è ingiusto e quindi per me è anche tristezza per le famiglie e per le bambine che stanno provando questa cosa Secondo te che cosa si può fare se volessimo provare a cambiare in piccola parte del mondo? Beh come ha fatto ognuno da lì potremmo provare a parlarne e insomma a dire tutto il mondo che non è giusto questa cosa o anche solo provarci va bene? Devo dire che già lo stiamo facendo e vedo che ne avete anche parlato bene un bel applauso per loro continuiamo continuiamo le nostre interviste adesso davanti a me Nicola prontissimo con il microfono in mano e Nicola ti chiederai visto che abbiamo parlato prima con Alessia che cosa significa predominanza maschile? significa che il capo famiglia ha il diritto di dirigere i propri figli come vuole e secondo te è giusto? no no e scolta che cosa ti ha colpito di tutta questa storia che hai scoperto? che Noiud ha avuto a dieci anni ha avuto il coraggio di andare in tribunale da sola tu l'avresti fatto? saresti andato da sola in tribunale? da un lato sì e dall'altro no come mai no? cosa ti spaventava? da un l'altro se il marito ti scopriva ti poteva picchiare molto più forte quindi sarebbe stato molto più pericoloso beh però ci dà un buon esempio di avere sempre coraggio nella vita bene allora io intanto passerei anche il microfono a Thomas Thomas secondo voi questa predominanza di cui ci ha parlato Nicola è da condannare? sì perché si impedisce alle donne di esprimere la loro opinione liberamente e ciò toglie alla società importanti risorse noi che viviamo in una democrazia sappiamo bene che per risolvere un problema bisogna analizzarlo da più punti di vista ascoltare le varie soluzioni per poi giungere a quelle migliori e proprio per analizzare quando hai scoperto la sua storia tu che cosa hai pensato? che non era giusto vivere in questo modo perché ognuno ha i propri diritti e secondo te che cosa si può fare per cambiare? come ho chiesto già qualche altro tuo compagno togliere questa predominanza maschile e vivere tutti insieme ok io direi di fare un bel applauso anche a loro allora abbiamo qui davanti Giorgia adesso qui davanti a me ascolta Giorgia avete fatto delle ricerche sullo Yemen che è il paese di origine di Noyud? sì prima di tutto ci è piaciuta molto la descrizione che ha scritto l'autrice c'era una volta un paese magico con leggende incredibili con le case a forma di pan di zenzero decolate da linee sottili che sembravano di zucchero qui l'odore di incenso flutta tutto intorno questa contrada si chiama Yemen e si trova nell'estremo sud della penisola arabica questa descrizione era bellissima e ci sembrava di essere nelle favole quindi abbiamo deciso di fare altre ricerche e di approfondire sullo Yemen eh direi che avete fatto benissimo ascolta quando hai scoperto la storia di Noyud che cosa ti ha colpito? una cosa che mi ha colpito è che quando si è sposata era molto piccola e ha venduto il suo anello per una bambola questo fa capire come ha dovuto vivere una vita brutta è vero è vero e ascolta visto che parliamo tanto di democrazia no? eh al giorno d'oggi secondo te abbiamo raggiunto una vera parità di genere? eh ehm non del tutto secondo me perché in alcuni paesi ancora queste cose succedono esatto ecco perché siamo qui a parlarne no? e a ricordare a tutti invece l'importanza bene io passerei il microfono al tuo compagno Elio Elio eh la tua compagna Giorgia ci ha detto che avete fatto delle ricerche no? in più sullo Yemen che cosa avete scoperto? abbiamo scoperto che lo Yemen ha aderito al Sedou ok e tu invece che cosa pensi come ho chiesto a Giorgia secondo te abbiamo raggiunto una vera parità di genere? non tantissimo ancora e secondo te che cosa si può fare per migliorare dagli occhi tuoi di bambino? non quella guerra secondo me là non ci doveva essere e così non succedeva là esempio se dovessimo parlare a bambini come te e dirgli fargli capire quanto è importante non avere no? stereotipi di genere che cosa potremmo dirgli? che che abbiamo occhi diversi però ce li abbiamo sempre tutti beh direi che è un buon esempio pratico di uguaglianza bene un bel applauso anche a voi continuiamo le nostre interviste ovviamente adesso davanti a me Anna e Sara inizierei con Anna Anna il tuo collega Elio il tuo collega il tuo compagno Elio prima ha detto che avete fatto delle nuove scoperte ci racconti un po' qualcosa sullo SEDO? il SEDO è una convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna dedicata specificamente alle donne cioè il SEDO fa parte degli strumenti di protezione dei diritti umani come l'ONU si occupa della protezione dei diritti economici sociali e culturali il SEDO si occupa in maniera specifica dei diritti delle donne ecco visto che stiamo parlando di diritti delle donne questo è un progetto contro la lotta no? agli stereotipi di genere e ti chiedo in un paese democratico secondo te qua in Italia abbiamo già raggiunto una parità? secondo me no secondo te possiamo fare qualcosa per cercare di combattere proprio gli stereotipi di genere quindi dire che le donne e gli uomini sono uguali? sì perché non c'è differenza cioè tra uomini e donne quindi pensare che non c'è differenza è già un primo passo è quello che possiamo insegnare bene io direi di passare il microfono a Sara Sara dunque la donna è tenuta in gran conto nello Yemen oppure no? sì le donne sono di fondamentale importanza per il pace building a livello locale e spesso si fanno carico per risolvere dei conflitti come quelli per l'acqua e per la terra facendo da mediatrici delle tribù per trattare il rilascio di eventuali detenuti e secondo te anche giro anche a te la domanda di prima in Italia visto che è paese democratico abbiamo già raggiunto questa uguaglianza di genere? non tanto cioè secondo me non tanto cosa potremmo fare secondo te per cambiare queste cose cioè come ad esempio se la donna fa uno stesso lavoro dell'uomo viene pagata ugualmente perché l'uomo e la donna è la stessa cosa diciamo che dovrebbero essere pagati uguali in maniera uguale purtroppo non è ancora così e secondo te invece per insegnarlo ai bambini quindi agli altri bambini che ci stanno ascoltando delle altre scuole che cosa potremmo dire o consigliare per far capire che è importante non avere queste diseguaglianze perché siamo tutti uguali perfetto io direi di fare un bel applauso anche loro grazie continuiamo con le nostre interviste allora prima abbiamo parlato dell'importanza che hanno le donne nello Yemen io adesso qui davanti a me Jawad al quale chiedo Jawad ascolta ma se le donne sono così importanti per lo Yemen come si spiega l'esistenza delle spose bambine si spiega col fatto che i diritti vanno conquistati e difesi altrimenti si corre sempre il rischio che essi vengano violati o addirittura annullati secondo te in Italia noi abbiamo raggiunto una uguaglianza tra uomini e donne quasi e che cosa si può fare secondo te per migliorare rispettare le donne c'è un un qualcosa che ti ha colpito della storia di Noyud tutto però quello che mi ha colpito di più è il fatto che il coraggio di andare in tribunale e chiedere aiuto è stata molto coraggiosa infatti bene io passerai il microfono a Mirko e Mirko ti chiederei quindi che cosa vuol dire che dobbiamo sempre vigilare sì dobbiamo sempre vigilare perché sul fatto che davanti a una struttura di ingiustizia come nel caso delle spose bambine tutti siamo destinati a prendere una posizione per il loro rispetto e bisogna o combatter combatterla o rimanere in silenzio e accettarla secondo te qual è la scelta migliore da fare combatterla attivamente e come ho chiesto anche i tuoi compagni secondo te qua in Italia nella nostra società siamo vicini ad avere gli stessi diritti sì dai ci siamo quasi manca poco tu dici bisogna lavorarci ancora un po' però perfetto grazie mille un bel applauso anche a loro bravissimi adesso noi continuiamo a parlare di Noiud e ti chiederei visto che adesso ho qui davanti a Max Aver che cosa fa oggi Noiud Noiud ha avuto la possibilità di studiare ma continua a lottare grazie a un generoso editore francese si è battuta per ottenere la libertà della sua sorellina più piccola Haifa che suo padre ha cercato di vendere ad un uomo molto più grande di lui Bene allora quasi ti chiederei qua in Italia secondo te gli uomini e le donne sono uguali sono trattati ugualmente? Sì perché hanno gli stessi diritti e secondo te in Italia le donne possono fare gli stessi lavori dell'uomo? Sì Ok intanto passiamo il microfono di nuovo a Giorgia che insomma ci parla al posto di una compagna e ti chiederai Giorgia visto che adesso abbiamo capito che cosa fanno i UD secondo te è serena? Noiud ha descritto nel suo libro la felicità che ha provato dopo aver divorziato ha detto che felicità non tremare all'idea di andare a letto non sussultare al minimo rumore di una porta che sbatte nonostante ciò le mie notti sono ancora agitate appena chiudo gli occhi ho l'impressione che un uracano mi stia spiando e che se mi addormentassi la porta si riaprebbe di nuovo il mostro tornerebbe che paura che sofferenza il giudice dice che è normale e che mi occorrerà del tempo per dimenticare tutto il male oggi continua la sua lotta per la difesa per la difesa dei diritti delle donne ed è una lotta molto molto importante ascolta secondo te cosa si potrebbe fare per cambiare queste disparità queste diseguaglianze che ci sono bisognerebbe parlarne voi ne avete parlato tante in classe eh sì e che pensieri sono emersi raccontaci un po' su che cosa avete parlato se era giusto sbagliato abbiamo fatto tanti esempi e in molte cose le donne sono considerate un gradino sotto all'uomo come ad esempio il lavoro anche se fanno lo stesso lavoro magari i maschi gli uomini vengono pagati di più delle femmine oppure anche questa storia delle delle bambine spose lì è una legge però comunque le bambine non lo vogliono ed è sempre una cosa brutta hai assolutamente ragione io direi di fare un bel applauso anche a loro bene siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata io ho di nuovo qui in postazione Sara Sara facciamo un po' una chiusura eh di questa puntata ci sono ancora delle spose bambine sì nelle campagne dello Yemen c'è un proverbio che dice un matrimonio con una bambina di nove anni garantisce un'unione felice perciò sono ancora troppe le spose bambine figlie di una di una cultura maschilista e retrograda e insomma abbiamo chiesto anche a un po' degli altri tuoi compagni come è stata questa esperienza tu sapendo che come hai detto adesso in Yemen ci sono ancora le spose bambine a fronte anche di quello di cui avete parlato in classe che cosa ne pensi che non è giusto e quindi visto che siamo anche un po' in conclusione com'è stata anche l'esperienza di parlare di questi argomenti importanti in radio bello secondo te è importante farlo usare tutti i mezzi che ci sono per parlare di questo secondo me sì così almeno lo diciamo anche a altre persone e questo è l'unico modo secondo te per cambiare le cose oppure possiamo far finte di niente secondo me è un buon modo ok io direi che potremmo anche fare un bel applauso anche a Sara e come sempre non possiamo chiudere la trasmissione senza parlare ovviamente anche con la maestra in realtà adesso io qui davanti Daniela e noi ci divertiamo a raccontare anzi ad avvisare all'ultimo le maestre che tocca anche a loro essere qui ospiti allora Daniela io ti chiedo un po' per fare il recap e le conclusioni magari ci spieghi come mai avete scelto questo personaggio e anche magari qualche impressione su tutto il laboratorio che avete fatto e come è stata un po' anche la risposta dei bimbi buongiorno a tutti noi siamo partiti inizialmente dalla lettura di diverse donne attiviste che si sono impegnate per aiutare la posizione delle donne nel mondo erano diverse le scelte avevo inizialmente proposto Malala io come insegnante poi leggendo le altre donne i bimbi sono rimasti affascinati da questo tema delle spose bambine onestamente non ero molto convinta perché pensavo che il tema fosse molto forte per la loro età ma leggendo la presentazione nel libro mi sono resa conto che era adattata a loro e quindi che si poteva affrontare e devo dire che sono stati in primis loro a guidare me perché ovviamente sono bimbi di dieci anni e sentire soprattutto le bimbe sentire una bambina di dieci anni sposa e divorziata è stato forte per loro e quindi mi hanno guidata in questo laboratorio quello che posso dire è che insieme siamo giunti ad una conclusione che non bisogna mai tacere anche se ci sono le leggi bisogna sempre stare attenti affinché queste vengano rispettate e non è facile perché spesso con le leggi noi taciamo e accettiamo cose inammissibili quindi li ho esortati e loro sono d'accordo con me a parlare e a lottare per i diritti di tutti delle donne e anche degli uomini sicuramente però in questo caso le donne perché ci rendiamo conto che nel mondo ci sono delle situazioni sconvolgenti se solo pensiamo alle spose bambine che sono più di 60 milioni siamo senza parole quindi dobbiamo parlare e dobbiamo continuare a parlare affrontare queste problematiche beh direi che esposizione migliore non ne potevi fare Daniela e questo è anche uno dei tanti motivi per cui noi abbiamo dato voce a tutto questo perché come ha detto anche Sara in ultimo bisogna parlarne quindi hanno accolto anche tutto il tuo pensiero io direi ai bimbi di fare un bel applauso alla maestra bene come tradizione adesso abbiamo fatto avvicinare i bambini e adesso per la gioia dei miei timpani come sempre vi facciamo salutare da loro al grido del progetto Tana Libero Tutte quindi al mio tre bimbi mi raccomando salutate tutti e dai miei timpani io vi saluto e ci vediamo nella prossima tappa